Questo laboratorio è il top dei laboratori di analisi posturale che vi proponiamo e permette l'acquisizione fotografica del carico plantare dei piedi, dei retropiedi, del corpo nella sua posizione frontale, posteriore e nei due piani saggitali. Effettuata la registrazione anagrafica del paziente, si procede con la successiva rilevazione fotografica tramite webcam delle posizioni previste per questo tipo di analisi posturale. Il laboratorio offre inoltre la possibilità di analizzare l'equilibrio del paziente in situazioni corporee di diverso tipo, occhi chiusi o aperti, volto a destra o a sinistra, bocca aperta o chiusa, oppure in altre posizioni scelte dal medico. Con queste situazioni riusciamo ad individuare la patologia di cui soffre il paziente. La prima visita termina quindi con la registrazione e l'archiviazione dei dati dell'esame posturologico. Una volta acquisite ed archiviate, le sei fotografie potranno poi essere richiamate per essere confrontate con quelle scattate nelle visite successive. Ed è proprio questo l'aspetto più importante di questo tipo di visita. La possibilità di poter confrontare queste fotografie con quelle che verranno scattate nelle fasi successive della terapia, con una metodologia di analisi che ci permette di valutare i risultati ottenuti durante il trattamento in corso. A conclusione della visita è possibile stampare i resoconti fotografici delle visite posturali per poterle lasciare al paziente e tenerlo quindi costantemente aggiornato sui suoi progressi. La durata della visita col GPS 600 postural app è di circa 3 minuti. Il laboratorio è composto da tre articoli fondamentali, il podata, il body food ed il totaposture, con i loro programmi per l'acquisizione dei dati necessari per la visita. Il body safe fornisce maggiore sicurezza alla persona quando si trova sul podata. Lo step è un gradino che agevola l'accesso al podata. Sono disponibili inoltre quattro articoli facoltativi in quanto si possono utilizzare strumenti già di vostra disponibilità. Questi articoli facoltativi e commerciali sono proposti per completare il vostro laboratorio al minimo costo di nostro acquisto. Il desktop 2.0 è una console di nostro design. Il computer viene da noi già configurato e preparato per l'uso. Il proiettore potrà servire per far vedere e coinvolgere il paziente nel valutare i vari atteggiamenti scoliotici o scorretti della sua postura e coinvolgerlo negli esercizi e nelle terapie da fare. La stampante è utile per consegnare al paziente le sue foto posturali, assieme alla diagnosi e dalla prescrizione. Grazie a tutti! Grazie a tutti.